Ora tocca a me! Attivo la carta magia Arte Avanzate nell'Araldo che mi permette di usare le bestie araldiche nel cimitero per fare un'evocazione Xyz Hai fatto bene a spedirle al cimitero? Si può fare un'evocazione Xyz usando i mostri nel cimitero Sovrappongo bestie araldiche Yeber Conway e Falco Berner Con questi due mostri costruisco la rete di sovrapposizioni e vocazione Xyz Viene a me numero 8, Re Araldico Genoma Eredità Viene a me numero 8, Re Araldico Genoma Eredità